Si ritrovano a lavorare oggi nella stessa struttura dell'ufficio speciale di Fossa e in altri comuni, assieme ad altri vincitori del concorso Ripam, che però a differenza loro hanno un contratto a tempo indeterminato normale con un datore di lavoro certo, il Ministero delle Infrastrutture e con un trattamento economico diverso. Stiamo parlando dei lavoratori ex UTR, uffici territoriali della ricostruzione, o meglio di ciò che ne rimane, visto che più della metà dei 72 lavoratori hanno deciso di puntare su altri concorsi e abbandonare la ricostruzione nei comuni del cratere. Sono passati sei anni infatti dalla firma del contratto, un contratto anomalo a tempo indeterminato per loro ma a scadenza, come denunciano. 2021 il termine, ora slittato al 2023. I comuni delle aree emogene con cui sono stati stipulati i contratti oggi non hanno la capienza per poterli riassorbire. Questo, mentre i doni non vincitori dello stesso concorso venivano chiamati da altre amministrazioni italiane, con le quali hanno stipulato contratti senza scadenza, rilieva l'Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego. I lavoratori del cratere in questi anni hanno chiesto alla politica delle risposte e delle certezze sul percorso lavorativo, ma non ce ne sono state. L'unica risposta è che ci sono stati degli inevitabili rallentamenti nelle procedure istruttore della ricostruzione. Nel luglio del 2017, poi, come anche noto, gli uffici territoriali sono stati soppressi. Alla luce di questa situazione definita dai lavoratori inaccettabile, l'Unione Sindacale di Base chiede al Governo, nell'interesse della ricostruzione, di porre fine a quella che hanno definito un'ingiustizia enorme, iniziata nel 2013 con la firma del contratto a termine. Si rivolgono ai ministri Di Maio e Toninelli per avere certezze. Magari una delle soluzioni potrebbe essere quella di cambiare il datore di lavoro e mettere anche per loro il Ministero delle Infrastrutture. In pratica è la condizione singolare, particolare, unica, senza precedenti, che ci siamo trovati a firmare col contratto nel 2013. Cioè un contratto a tempo indeterminato, ma con una clausola di scadenza. Prima 2021, adesso 2023. Più della metà dei lavoratori sono andati via di fronte a questa condizione e quindi è mancata effettivamente una continuità. Stiamo parlando di scrivanie vuote, pratiche che devono essere riassegnate, ferme insomma per un anno, un anno e mezzo, prima della riassegnazione del vincitore e formazione. Chiediamo di risolvere, nell'ottica non solo appunto dei lavoratori, ma del pubblico interesse che si viene a determinare per questa condizione di alcuni lavoratori, chiediamo di risolvere questa anomalia contrattuale, chiediamo di normalizzare il nostro contratto, perché non è un contratto normale.